Ragazzi e ragazze, vi do, anzi, vi diamo il benvenuto su Cassius Drums. Nel video di oggi, insieme ad Andrea Bessone, il Product Specialist di Daddario, lato batterie, parliamo di... Bacchette. Esatto, parliamo di bacchette 5A. Sinceramente, Andrea mi ha detto, facciamo un video sulle bacchette 5A. Io ho detto, ok, perfetto, arriverà con una bacchetta. Invece, no, è arrivato con 5 paia di bacchette e in realtà... E ancora non sono tutte. Esatto. In realtà ce ne sarebbero ancora altre, perché? Allora, praticamente... In poche parole il perché, mandiamo la sigla e poi partiamo. Ok, Promark si divide in varie bacchette, nonostante il modello sia sempre 1, 5A, 5B, 2B, 7A, perché differenzia le bacchette in base al bilanciamento del peso, che può essere indietro e in avanti, la punta, la finitura della bacchetta e il tipo di legno. Ok, quindi la stessa bacchetta, diciamo, ma fatta in più. Si trova in più varianti, esatto. Ok, perfetto. L'unico marchio che offre questa... che va oltre al, diciamo, long, quindi più lunga o più corta. Esatto. Infatti io non ho mai visto questa cosa. Partiremo dalla mia bacchetta preferita e qua lo dico, ma non vi dico quale, ve lo dico dopo la sigla. Come ho detto, partiamo dalla mia bacchetta preferita. La mia bacchetta preferita è questa qui. Io l'ho provata, questa bacchetta, ai tempi, e ho detto, è la mia. Non so dirti il perché. Lo dicevi a pranzo che mi hai detto che l'hai presa e ti sei trovato. Esatto, mi sentivo potente. Cioè, ho preso questa bacchetta, mi sentivo potente, ma sinceramente non so il perché. Quindi, spiegami il perché mi sento potente con questa bacchetta. Allora, secondo me, allora, vabbè, la finitura è fire gray, ma questo non cambia il feeling sulle mani. Nel senso, non cambia nel peso e niente. Ok, tutto questo appoggio qua. Può cambiare il fatto che, essendo forward, è bilanciata più verso l'avanti. Ok. E questo, però, Marco, come lo crea questo bilanciamento in avanti e indietro? Semplicemente facendo il collo più spesso in avanti o il collo più sottile. Ah, ok, in verso quello, bilanciamento più avanti e indietro. Cambiano anche la punta, il tipo di punta, e il legno è sempre icori sulla fire gray, quindi... Ok, ok, ok. Questo comunque rimane nella fascia classic delle Promark. Ok, ok, perfetto. Perché? Perché allora Promark divide in modern e classic ed è facilmente distinguibile dal pacchetto che è giallo se è modern o bianco se è classic. A sua volta divide ancora in due fasce ogni modern e classic. Ok, quindi qui siamo su... Sul forward del classic, bianco, esatto. Quindi allora facciamo così, prendiamo le classic che abbiamo, che sono tre, e me le metto qua e partiamo dalle classic. Quindi io ho un pad qua davanti perché Andrea suona la batteria con le bacchette e le prova così. Io, che ho bisogno di un pad in realtà per provare le bacchette, perché secondo me, per quanto mi riguarda, è il modo più semplice per capire le differenze tra le bacchette. Quindi, allora facciamo così, io mi faccio un giro con le bacchette sul pad, così ho idea di quello. E poi fai tu sulla batteria. Ottimo. Ok. Con queste bacchette qua sono una bo... tutte le volte che suono... Io uso le stesse, ok, uso le stesse, ma della 5B, quindi... Ah, 5B, ok. Però sempre, non fa egram, però comunque forward, sempre bilanciate in avanti. Ok, perfetto. Queste, queste sono una bomba. Perché stanno proprio bene attaccate al... E poi si vede che a te piace magari più reattività verso il fronte della bacchetta, quindi hanno un rimbalzo più comodo per te. Mentre se qualcuno vuole avere più controllo, diciamo, nelle mani verso la parte posteriore della bacchetta, allora ci sono le modern. Sembrano quasi più pesanti. Sì, in realtà è solo il bilanciamento che cambia. Vai, fatti un giro anche tu. Dai, proviamole. Fighe. Eh, sono... guarda... Sono abituato alle 5B, quindi... Quindi per te sono un po' piccole. Sì, sì, sono un po' più leggere, però... Diciamo che... Queste, allora, queste sono il controllo. Esatto. Poi le altre non ho però provate. Ma poi è anche la bacchetta, diciamo, più standard, nel senso che consiglierei a chiunque passa a Promark da provare all'inizio. Infatti, come mi hai detto tu, le hai provate all'inizio e ti sono subito piaciute quelle. Sì, sì, sì. Fisse queste. Penso di ne averne provate altre. Ho provato... Mi hanno dato queste. Sì, sì, sì. Mi hanno detto, prova queste che se non ne ti piacciono. E effettivamente funzionavano di brutto. Allora, ne ho qui vicino un paio blu e un paio... Un attimo, per specificare l'ultima cosa sulla Firegren, forse l'ha già spiegato Luca in qualche altro video. Passano attraverso un anello rovente, un anello infuocato, esatto, che quindi bruciacchia il legno e lo rende più duro e più resistente. Quindi, un prezzo più alto, però durano anche il triplo. Sì, ecco, la cosa che... La gente si spaventa sempre quando guarda il prezzo perché dice solo per il colore costano di più. In realtà non è il colore. Cioè, poi la finitura è bella, ma cambia proprio la durezza del legno perché... Più che altro, la cosa che ho visto, in generale, non solo le altre, ma queste sicuramente sì, è il prezzo è più alto. Sì. Il prezzo è più alto, ma durano tipo il triplo. Quindi, alla fine... È uguale, nel senso, uguale, però non hai rompimenti, esatto, esatto. Perché, appunto, una bacchetta te la tieni per tanto. Quindi, ottimo. Allora, questa ci siamo. Che cosa prendo? Dipende, quello che tu... Puoi prendere anche quella... Vabbè, quella normale cambia solo del FireGrain, quindi... Che è questa, quella normale? Quella forward normale, esatto. Ok, quindi questa qua... Questa è l'unica differenza che non è passata attraverso il cerchio rovente. Ok, sempre icoli. Esatto, sempre icoli. Ok, perfetto. Quindi questa, in pratica, forward... Sempre bilanciata in avanti. Ah, uguale. La stessa... E, tra l'altro, questo processo, nonostante passi in questione loro rovente, non cambia il peso, quindi il peso è sempre lo stesso. Ok, ok, ok. Quindi, questa, scusami, ci metto un attimo sempre... Questa, uguale, identica, senza trattamento. Esatto, esatto. Ok. L'unica cosa che ho notato io, che però alcuni dicono sì, alcuni dicono no, è che Surride potrebbe essere più brillante, secondo me. Perché indurendolo mi sembra che Surride sia più brillante come suono, però magari è una sensazione mia sapendo... Ci sta. Bisognerebbe provare le fasciati. Esatto, esatto. Puoi dire qual è. Sì, allora, non so se sia una questione di... Dato come l'hai detto. Esatto. Mi sembrano più dure quelle. Queste più dure, sì. È la verità, adesso non so se sia una questione mentale oppure no, però effettivamente sì, sembrano da suonare più leggere, anche se poi in realtà se le prendi in mano sono uguali. Secondo me è proprio una questione di... Ma come ad esempio io trovo differenza nelle bacchette 5A Attack, che hanno semplicemente un altro tipo di legno, con la quercia giapponese. È molto più dura, quindi molto più resistente. È un po' abbastanza simile alla Firegram. Ok. E quando inizio a suonare da freddo, magari che è inverno, ho le mani fredde, mi preferisco scaldare con le forward normali, i nicori, e poi passare sull'altra perché sono indistruttibili. Certo, certo, certo. A volte uso quelle. Figo. Sono tutte robe che ti accorgi dopo un po' che suoni, dopo un po' di anni che suoni, che senti proprio il feeling. Esatto, anche perché sono cose magari che sembrano piccole, però poi quando suoni e quando le cambi, le bacchette, proprio una o l'altra, capisci. Quindi, normale, più dura. Sì. E poi? Ci sono quelle colorate, painted, le fanno blu, ma in molti altri colori. Ok, ok. Questo è sempre forward. È importante dire che anche lì non cambia il peso perché è un velo sottilissimo di vernice. Quindi il peso, allora, in realtà la cosa che secondo me è una questione di peso, credo, poi dimmi tu, è il fatto che io suonandole, cioè la cosa che non succede mai con le bacchette e suonare di destra con la bacchetta a destra, suonare con la bacchetta a sinistra e avere lo stesso suono. E avere lo stesso suono. È una questione di peso? È una questione di... Allora, vabbè, un po' il peso sì perché comunque c'è uno scarto minimo che ora non mi ricordo un numero preciso, ma in base alla grandezza della bacchetta mi sembra che siano dai 2-3 grammi di massimo scarto. Ok. Mentre quando pesi altre bacchette, è già successo, provate, che pesino un po' diversamente ma lo senti proprio a mano, no? A parte questo, la cosa del suono che ti sei accorto e che me ne sono accorto anch'io, è il fatto che non cambia il suono quando suoni sul pad da destra a sinistra, questa ridondanza di suono, no? Questo perché le Promark passano a fine produzione su un rullo con un martelletto che ci picchia sopra, a metà, e a seconda del pitch le accoppiano nella maniera più vicina possibile ogni paio. Ok, quindi rilevano il peso e poi le mettono insieme in base a... Peso e suono anche in base a... Peso e suono perché c'è il martelletto, ok? Con un microfono che registra, esatto. Fichissima sta roba, bellissimo. E appunto, cioè, è uguale e tra l'altro io quando studiavo pad avevo questo problema e pensavo fosse un problema di destra diverso dalla sinistra. Io, pensavo proprio fossi io che non suonavo preciso. E invece no, a questo punto nelle bacchette, provate a casa a prendere le vostre bacchette qualsiasi, suonate su pad e vedete se hanno lo stesso suono. Se hanno suoni diversi vuol dire non impazzite, non siete voi molto... Anche perché sulla batteria poi non si sentirà la differenza, però è una cosa di precisione... Sì, se hanno suoni diversi vuol dire che le bacchette hanno pesi diversi. Se invece, come in questo caso, pesi e densità, perché comunque il pitch cambia, quindi anche densità delle... Io penso sempre al peso. Non è un problema la densità o il pitch, nel senso non è che uno sceglie il pitch della bacchetta, c'è un pitch buono, è semplicemente il fatto di selezionarle, accoppiarle per ridurre il gap di differenza di suono. Certo, 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 assolutamente sì. Il gap di suono, sì. E quindi, allora, questa bella, questa cosa del suono, finalmente mi è tolto un problema dalla testa cruda. Promark, quando è entrata in Daddario, cioè Daddario ha acquisito Promark, ha iniziato a puntare al massimo sul miglioramento delle bacchette e sull'ascoltare i problemi che i batteristi hanno, quando suonano, e quindi anche la durata è cambiata totalmente, sia nella produzione hanno inventato dei nuovi macchinari per fare la bacchetta, per avere l'umidità giusta, il peso selezionato, quindi buttiamo via più bacchette degli altri, però il risultato, sono sicuro che chiunque ci metta le mani su fuoco, non perché lavoro, sono sicuro a consigliare Promark. Sì, 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 te lo dicevo anche prima, anche io da quando ho provato Promark, mi sono sempre trovato benissimo. Io ho iniziato quando ero più piccolo, più di 15 anni fa, 20 anni fa, quasi a suonare, ed era totalmente diverso, perché non era proprio, era Daddario, avevano un altro metodo, e da quando ha acquisito Daddario ho proprio migliorato, infatti quando ho iniziato a lavorare ho detto, chissà, spero che vadano bene, perché avevo cambiato e in realtà poi sono tornato ed è andata super bene. Figo. Calcolo, ho iniziato a suonare il tour con 8 paia di bacchette, io ho suonato da gennaio a settembre, 2 l'ho spezzato totalmente, ok, ma c'erano ancora 6 paia che sono ancora suonabili, non so, cioè sono scheggiato ovviamente, però, sta suonando punk, cioè pop punk, forte, sì. Ok, ok. Domanda. Sì. Su i piatti. Ok, non li macchiano, no. Non li macchiano? È una cosa che hanno studiato apposta sia al grip che dopo vedremo che la vernice non macchia i piatti. Proviamoli, voglio la prova. Mai. Mi ho molestato un po' i piatti per macchiatela. Esatto, tra l'altro, abbiamo la prova che abbia suonato forte perché il crescente è si è girato. Esatto. Vedete che te lo metto a posto. Anche le pelli, tante volte si macchiavano, ma per evitare il fatto delle pelli hanno messo la punta comunque. Ok, ok, ok. Però io ad esempio che molto spesso giro la bacchetta al contrario. Questo non l'ho mai provato onestamente, però è da vedere. È da provare, sì sì, è da provare. Proviamo. No, sembra... Sembra... Puoi essere macchiata per altre bacchette. Ah, un po' sì. Un po' quasi. Vabbè, ci sta. Però, devi girarla. Diciamo che questa roba qua del girare la bacchetta... Poi questa è quella verniciata, invece il grip non hai problemi. Ok. Questa è la vernice mentre sul lactic grip proprio è fatto. Ok, ok, ok. Figo, sì appunto. Poi questa cosa del girare la bacchetta è una cosa in più che faccio io. Però su piatti devo dire che non macchiano e quello è già un problema enorme di quelle verniciate. Quindi, allora, classic, una. Rifacciamo una piccola ricapitolazione. Classic file grain, classic normale, iniquiri. Classic dure, classic normale, classic... Eh, poi sì, quelle painted. Ok. Poi ci sarebbero le ROW, che sono le Ex Natural, adesso le chiamano ROW. Ok. E sono quelle senza vernice sopra, quindi hanno il logo verde, diciamo. Ah, ho capito. Hanno più grip perché il sudore entra dentro il legno, quindi per me sono super comodi. Infatti io passo da quella, quelle normali. Non ho ancora deciso che sia la mia preferita, però... Ok, ovviamente trovate comunque i link qui sotto per avere tutte le informazioni su tutte le tipologie di pelli. Esatto. Portarle tutte oggi sarebbe forse un po' troppo. Allora, giallo, modern. Modern cosa vuol dire? Allora, modern sono bacchette rivolte a batteristi che suonano appunto moderno. Ok, quindi proprio generi. Che poi dipende, io sono moderno preferisco le forward. Perfetto. Dipende da lì, da gusti. Però è più la parte sperimentale di Promark, no? Ci sono varie, ci sono due tipologie di modern, ci sono le rebound e le finesse. Le finesse sono quelle in acero, che quindi sono leggeri leggeri, però ti permettono di avere anche magari la bacchetta più spessa con il peso di una bacchetta normale. Ok, ok. Ideali per il jazz, infatti hanno la punta più arrotondata, sono ottime sul ride con un buon controllo. Ma quello che caratterizza le modern è il peso verso le mani, cioè il peso indietro. Ad esempio, se tu prendi sul pad e provi questa bacchetta che è una 5A modern e l'altra che è una 5A classic, quella bianca che hai posato prima. Ok, questa qua? Esatto. Sono le stesse, perché sono le stesse 5A. È un problema, ok. Con peso diverso. Ok. Se ne provi una o l'altra sentirai proprio... Infatti consiglio a chi sceglie le bacchette di provare perché devi capire qual è la tua preferenza. Ok, quindi queste sono quelle di prima. Allora le forward sono quelle di prima. Di prima, esatto. Però dovresti provarne una e una per capire... Cioè una a destra una classica, a sinistra o viceversa. Sono sempre 5A, ma una sentirà il peso indietro e una sentirà il peso in avanti. Sono stesso peso, vedo? Stesso peso, ma che cambia in avanti. Sembrano due pesi completamente diversi. Doviamo avere la stessa mano? È minima, però comunque la sente la differenza. Sì, è minima, però... Io preferisco le forward ancora. Sì sì, io preferisco le classic forward, ma c'è anche da dire che io prima... Quando ho iniziato a suonare suonavo già delle bacchette che erano classic. Ok. E quindi quando sono tornato a Promark ero già abituato al classic, no? Ok, perfetto. Diciamo che le bianche sono le classiche Promark che hanno sempre usato tutti, no? Certo. Poi dopo hanno introdotto le modern che sono due modelli in più, esatto. Ok, ok, ok. Queste qua anche le fanno in Firegrain, nel senso non ce l'abbiamo dietro, però le fanno anche loro con la finitura Painted, Firegrain e Active Grip che dopo vedremo. Ok, e allora faccia così. Suonaci qualcosa, io intanto prendo le altre e metto a posto perché sennò continuano a girarmi dappertutto. Vado? Vai! Figata, figata. Allora io non ho ancora finito, ma fa niente. Prendiamo le ultime. Io ho un po' di domande da farti sulle ultime. Ok. Cioè le ultime sono quelle più che confondono perché la gente pensano siano solo verniciate diciamo. Invece è proprio un velo di grip che si chiama Active Grip, è una tecnologia brevettata da noi. Come vedi hanno anche questo anello. Ecco questa è la domanda. Perché? Ma me la fanno tutti, anche quelli dei negozi perché non capiscono. Allora, tanti pensano... Si vede di là. Questo è l'anello. C'è un anellino, ve lo prendo. Proprio questo che... Alcuni dicono, però essendo solo uno non ha molto senso. Però come ragionamento ci può stare. Dicono che... Cioè alcuni pensano che sia per bilanciare più in avanti o più indietro alla bacchetta. In realtà no, perché sennò ne metteremo due. Certo. Cosa serve? Allora, l'Active Grip è un velo di materiale che è termoreattivo. Cioè cosa significa? Significa che quando tocchi tanto la bacchetta, lo puoi proprio provare dopo 30 secondi e 40 che la tocchi, si inizia a scaldare e diventa più molliccio diciamo e ti dà un grip extra sulle mani. Proprio non scivola, no? Se tu sei un batterista che suda tanto nelle mani perché può capitare. Lo attivi subito. Esatto. Lo attivi e ti dura sempre e non si sparge soprattutto sui piatti a differenza di... Ok. Il vecchio grip che c'era. L'anello perché lo mettono? Perché quando lo trasportano semplicemente se c'è il sole che scalda tanto la bacchetta rischierebbe di incollarsi. Ah ok. Quindi fa da distanziale. Perché scalda il materiale e diventa appiccicoso. Ok. Facciamo una cosa. Fanno anche diversi colori. E' importante rispetto a tante altre marche non cambia il peso perché è un velo super sottile. Quindi hai la stessa bacchetta col grip. Ok. Allora voglio fare una prova. Si. Adesso le prendo in mano. Suono per un po'. E poi voglio vedere... Quindi questo lo togliamo. Si 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 togli. Ok. Togliamo, mettiamo qui. Suono per un po'. Qui probabilmente il video lo velocizzerò. Però voglio vedere cosa succede dall'inizio andando avanti. Sta cominciando. Ok. Ho capito perfettamente quello che dici. Nel senso che... Ho sentito da batteristi che hanno iniziato a usarla. Batteristi che hanno un problema. Magari un po' più avanti con l'età. Con problemi di sviluppo del carpale. Che non riescono ad avere tanta presa. Cioè hanno problemi di tendine o così. Tu con meno forza riesci a... A non farti scappare la bacchetta. Specialmente quando suoni sui piatti. Ok. Sai cosa? La cosa è che io mi aspettavo... Sentite che diventa proprio appiccicosa. Dato che mi hai detto quando scaldi. Nella mia testa mi aspettavo... Quando ti scaldi tu. Di dire... Ok. Sento un po' più caldo. In realtà senti proprio... Che ti appiccica le mani. Che ti appiccica le mani. Però non è colla. No, no. Non è colla. Stacchi. Perché quando stacchi... Io ad esempio la sinistra probabilmente la stringo un po' di più. Perché sentivo più appiccicata la sinistra. Si si si. E questa è una roba super positiva. Perché... La sinistra è quella in cui... Ho meno il controllo della bacchetta. Essendo destro. Io sono mancino quindi al contrario però... Si si mancino. Esatto. Veramente? Il mio maestro... Il mio maestro mi ha iniziato a insegnare da destro. Perché mi ha detto quando farei cambio palco... Ti ingerano tutti. Quello è vero. Però poi con l'Egos Noz ad esempio... Non ho fatto fatica ad imparare. Quello è vero. Perché ce l'hai. Figo. Non lo sapevo. Però appunto la sinistra io faccio più fatica. E quindi ho più controllo in questo caso. Si si si. La destra magari un filo meno però la destra va. Quindi non mi scappa. Si non è un problema. Belle. Molto belle. E queste sono di vari colori mi hai detto? Si. Ok. Non so quali però comunque vari colori. Perfetto. Si va beh. Ma tanto appunto vi ripeto. Vi lasciamo tutti i link qui sotto in descrizione. Per andare sul sito di Promark e vedere... Sito di Promark o sito di Daddario? Si sito di Daddario con Promark. Ok perfetto. Sul sito di Daddario con Promark. Vabbè qualche sito lo mettiamo alla fine eccetera. Lo so. Esatto. Trovate qualcosa qui sotto. Dove appunto. Trovate tutte quante le bacchette. Tutte le varie tipologie. Ovviamente. Tutte queste tipologie di bacchette. Esistono per 5A. Esistono per 7A, 2D. Esatto. 2A. Esatto. Tutte le altre. Quindi. Un consiglio. Ti chiedo. Da utente. Ok. Un consiglio per chi va in negozio e vuole delle Promark. Da dove cominciare? Come continuare? Come ho detto prima. Scegliere le 5A forward o 5A boundary. State. Provarle su un pad. E capire se preferisci il bilanciamento all'indietro o in avanti. Ok. E poi comunque. Partirei comunque da 5A e 5B. Nel senso che sono le bacchette un po' più standard. Quindi di base prendere quelle che usano già loro. Esatto. Se usi le 2B allora vai sulle 2B. Non andare sulle 5A. Però sì. Quelle che usi già te. E poi provare però le varie. Le varie caratteristiche. Vari modelli di 2A o di 5A. Ok. Certo. E non sottovalutare il legno. Nel senso che. Se hai già dei problemi di bacchette che si rompono. Durano molto perché hanno cambiato come ho detto prima. Sistema di farle. Sì sì. Però se tu sei proprio un martellatore. E vuoi essere sicuro che non si spacchino. ci sono le appunto. Le attac. O le fire grain. Esatto. Fire grain oppure attac. Che sono apposta proprio per chi. L'attac non ce l'abbiamo vedo. L'attac no. Ok. Lo hai sentito in descrizione. Sono bacchette che durano di più proprio. Le ho provate anch'io. Io uso onestamente nonostante picchi forte. Con le forward non ho problemi senza fire grain. Quindi. Ok. Per farvi capire la durata. Questa è appunto. Io posso dirvi la mia. Questa è impressionante. Durata impressionante. E devo dire anche sfaldamento molto lento. Senza rompe degli scatoli. Promark ha trovato un sistema di produrre la bacchetta. In solo tre secondi con due rulli. Che sono praticamente il negativo della bacchetta. E in tre secondi la bacchetta non si surriscalda troppo. Quindi non abbiamo bisogno di bagnarla troppo. La bagniamo il giusto. E quei tre secondi non asciugano troppo la bacchetta. Cioè proprio esce dell'umidità già abbastanza precisa. Cosa succede se è troppo bagnata invece. O se è troppo secca. Se è troppo bagnata. Quando la porteranno dal Texas in Italia. Iniziano a piegarsi. E non sono dritte. E se è troppo secca invece si spacca. Ok. Fate la prova anche quella di farla rotolare sul tavolo. Esatto. E vedrete che non avrà problemi. Ok ok ok. Perfetto. Quindi. Direi che abbiamo detto tutto. Sì. Questione bacchette. Perfetto. Quindi. Appunto. Facendo ricapitolazione. Bacchette. Modern classic. Esatto. Nella modern c'è la rebound e la finesse. Maple quindi acero. Classic. Forward che sono le tue preferite e le mie. E attack che sono quercia giapponese. Ok. Perfetto. Quindi. Fatevi. importante. Modern bilanciamento verso le mani. Classic bilanciamento in avanti. Ok. Perfetto. Quindi. Consiglio di fare questa prova. Quindi se. Se potete fare questa prova di. Provare. tutte le varie tipologie o almeno qualche tipologia di bacchetta Promark. Partendo ovviamente da quelle che usate voi di solito. E allora direi che il video può finire qua. Sì. Io voglio ringraziare tantissimo Andrea. Grazie. Per essere venuto qua e avermi spiegato tutte queste cose sulle bacchette. Trovate Andrea su Instagram. Vi lascio l'Instagram qui sotto. E grazie a Promarka da Dario per averci mandato queste bacchette. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando. Iscrivetevi. Campanellina. Cose. Tanto sapete già tutto. Ciao. Ciao.